io quando guardo fuori perché faccio twitter oppure piuttosto che condividere la trasmissione sui miei social perché è giusto che faccio anche da manuense allora inizio introducendo luigi di gregorio professore presso l'università della tuscia di viterbo dove insegna comunicazione pubblica politica e sfera digitale insegna in diversi master scuole di specializzazione e da circa 15 anni svolge attività di consulenza politica tra il 2008 e il 2014 è stato dirigente pubblico ricoprendo il capo di l'incarico di capo della comunicazione istituzionale del comune di roma ed è stato manager presso la vicepresidenza del parlamento europeo collabora con diverse testate giornalistiche tra cui il foglio si occupa soprattutto di comunicazione politica in riferimento agli studi elettorali e la politica comparata quindi penso che possiamo lasciare la parola la parola al professore di gregorio bene sono acceso sì mi sentite sì vedo gesti che tendono verso essi allora buonasera a tutti grazie per l'invito grazie adolfo per l'invito e grazie a tutti voi per essere per essere qui allora il tema che mi sono auto inflitto diciamo un tema ovviamente un po' complicato da sviluppare in in venti minuti o mezz'ora come possiamo tutti immaginare quindi ho scelto in qualche modo un taglio all'interno appunto del concetto di democrazia da affrontare insieme insieme a voi il taglio è diciamo quello della crisi contemporanea della democrazia cioè cercare di capire che cos'è questa crisi perché le democrazie erano già in crisi prima del covid poi eventualmente insieme possiamo riflettere su diciamo cercare di capire se il covid in qualche modo può essere un acceleratore di queste crisi o può essere un aggravante di queste crisi poi in caso lo vediamo insieme però nello specifico vorrei affrontare con voi una cosa su cui sto ragionando recentemente quindi anche un test per me per testare appunto una teoria e riguarda fondamentalmente diciamo la frattura destra sinistra a livello globale oggi su cosa è fondata oggi che insomma un argomentone che su cui appunto sto riflettendo qualcosa dico già scusate così approfitto faccio anche self promotion tutto quello che non dirò in questa mezz'ora lo trovate in questo libro che è uscito un anno e mezzo fa che si intitola demopatia sintomi diagnosi e terapia del malessere democratico edito da rubettino e che tra qualche mese uscirà anche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna nella versione inglese anche aggiornata in era covid allora per cominciare ad affrontare questa questione crisi contemporanea delle democrazie adesso condividerò lo schermo e vi farò vedere poche slide non vado lungo anche perché appunto il tempo è quello che è allora vediamo un po dovrebbe essere arrivo ecco allora vedete la slide sì facciamola così che è più carina dunque ovviamente sulla crisi delle democrazie c'è già una letteratura sterminata quindi anche lì devo andare un po' per così colpi d'accetta e andando per colpi d'accetta io ho isolato a partire dal lavoro che ho fatto nel mio libro tre grandi disorientamenti contemporanei che riguardano tutti e non solo la politica riguardano proprio il demos tutti noi quali sono questi disorientamenti il primo disorientamento è di tipo culturale come vediamo da questa slide fondamentalmente vediamo se riesco ad attivare la penna la grande transizione diciamo dalla modernità alla post modernità è una transizione che ha comportato tutta una serie di conseguenze tra queste diciamo una graduale è sempre più possente individualismo nella società è sempre più atomizzata e individualizzata dall'uomo massa si è passato per certi versi all'uomo folla che è un aggravante in qualche modo dell'uomo massa cioè un uomo quasi un atomo inserito in sciami che cambia costantemente opinione in questa appunto volatilità e volubilità costante il mito del progresso comunitario tipicamente novecentesco a prescindere dal tipo di ideologia che andavamo ad analizzare si è andato a liquefare in una specie di narcisismo di massa il narcisismo attenzione non è l'essere vanitosi o vanesi il narciso è proprio una crisi di identità il narciso è un individualismo spinto per cui l'individuo tendenzialmente ha sempre meno punti di riferimento a una bussola impazzita sempre meno credenze stabili non avendo credenze stabili si rifugia come direbbe christopher lush nell'io minimo libro degli anni settanta anzi ottanta si rifugia in se stesso perché l'unica cosa in cui crede in qualche modo è l'unica cosa su cui può puntare quindi un narcisismo autodifensivo è un egocentrismo autodifensivo e il narcisismo ha delle ulteriori diciamo ripercussioni sulla società per esempio appunto che se tutto ciò che conta divento io cala l'io sociale cala il superiore il superiore quello che controlla le nostre pulsioni per certi diversi e aumenta l'esso cioè l'io assoluto tutto quello che io voglio lo voglio adesso voglio la gratificazione immediata mi spetta è un mio diritto e quindi la società in qualche modo oltre ad atomizzarsi aumenta le aspettative ma le aumenta soprattutto a livello individuale questo crea grandi problemi di compensazione degli interessi di compensazione delle preferenze per la democrazia altro motore chiave è la società dei consumi la società della produzione era la società fordista Henry Ford diceva chi compra una Ford non dovrà mai più comprarne un'altra ovviamente se le cose fossero andate così la Ford sarebbe fallita dopo dieci anni più o meno l'offerta che crea la domanda e la domanda costante di beni è quello che ha dato vita al consumismo il consumismo è quello che ci permette di avere la crescita come obiettivo costante non nelle società capitalistiche però il consumismo è anche quello che ci allena all'oblio immediato che ci allena all'usa e getta che ci allena appunto alla neofilia al volere sempre cose nuove all'annoiarci subito e questa attenzione non riguarda solo i prodotti è colonizzante il consumismo riguardo ormai molti settori della nostra vita riguarda anche la politica riguarda addirittura spesso addirittura le azioni personali che sono sempre più passatemi la brutalità usa e getta il capitalismo produttivo diventa capitalismo cognitivo questo vuol dire che i brand diventano più importanti del prodotto cioè la comunicazione il biocapitalismo adesso cose su cui non voglio entrare il secondo tipo di disorientamento invece è ed è molto importante ci ragioniamo poco è di tipo spazio temporale cioè sono cambiate grazie alle innovazioni tecnologiche e a tutti quei fattori lì le nostre percezioni del tempo e dello spazio il tempo è sempre più puntillistico cioè nella modernità nel novecento il tempo era concepito come un tempo lineare che vuol dire che il passato lavorava per il presente il presente lavorava per il futuro il futuro era nella nostra idea sempre migliore del presente che tu credessi in un'ideologia o in una religione o nella scienza comunque il tempo aveva una sua linearità e un suo progressismo oggi noi viviamo il tempo per punti dice bauman ho anche un affeso lì puntillistico puntinista troverete tante definizioni in letteratura per punti vuol dire che appunto siamo talmente sommersi di stimoli di input e di informazioni che ogni singolo punto per noi è come se fosse una micro vita da sfruttare una un insieme di occasioni da sfruttare un punto da riempire ecco perché è fondamentale di nuovo la società dei consumi che è quella che ci allena la gratificazione immediata noi ogni istante lo vogliamo sfruttare al massimo perché otteniamo il massimo di dopamina di adrenalina eccetera eccetera si passa grazie ovviamente anche alle nuove tecnologie alla globalizzazione diciamo da una società basata sugli stati nazioni al villaggio globale cioè appunto lo sappiamo la globalizzazione intesa come interdipendenza del pianeta per certi versi dall'era gutenberg all'era zuckerberg questo gioco insomma dalla società della stampa siamo passati fino appunto a internet e social media con tutte le conseguenze che ciò ha comportato anche appunto nella nostro rapporto col tempo e nel nostro rapporto con lo spazio attenzione lo spazio qua ci interessa soprattutto in un senso che tutto ciò che accade ovunque nel mondo se ha copertura mediatica noi oggi lo sappiamo in tempo reale e questo genera nella nostra psiche già abbastanza fragile per queste ragioni che abbiamo visto qua genera ansie genera paura genera depressione per certi versi quindi anche questo è un problema per le democrazie perché hanno un demos sempre più sfibrato atomizzato e spaventato mediamente c'è una transizione forte tra la centralità questo era proprio il mito della modernità no la ragione l'individuo razionale l'elettore razionale il consumatore razionale non c'è mai stato ma mai come oggi diciamo prevale un altro fronte e prevale diciamo il fronte emotivo se volete pre razionale o intuitivo proprio perché tempo e spazio non ci concedono altro che utilizzare quello che Daniel Kahneman chiama il sistema uno del nostro cervello che è il sistema più rapido quello delle scorciatoie cognitive che è anche però il sistema che spesso ci fa sbagliare perché questo non abbiamo né tempo né voglia spesso né modo di attivarlo il lungo periodo come dice bauman è un guscio vuoto cioè il lungo periodo ormai diciamo fatichiamo a concettualizzarlo anche come singoli proprio perché siamo abituati appunto alla gratificazione immediata e questo prevale ovunque lo sappiamo spesso anche in politica e questo questo questa accoppiata qui brevissimo periodo più obbligo immediato è anche quello che permette alla politica recente non solo in Italia di essere spesso contraddittoria di fare dei testa coda dall'oggi al domani senza perdere particolare consenso o fiducia o gradimento e poi c'è tempo e spazio incidono anche nel nel rapporto tra le reale percepito qui potremmo aprire diciamo chiaramente una questione eh che va da da Machiavelli in poi no governare e far credere diceva Machiavelli quindi gioca sul percepito il percepito inciderà sul reale eh Napoleone diceva non conta la verità conta ciò che la gente crede sia vero quindi diciamo possiamo però insomma è ovvio che il percepito le narrazioni plasmano il reale perché il reale noi lo filtriamo col nostro percepito ed è ovvio che in questo mondo qui da un punto di vista soprattutto tecnologico e in questo mondo qui da un punto di vista culturale la battaglia tra le narrazioni la la lo scontro sul percepito è uno scontro molto forte ed è uno scontro centrale nella crisi delle democrazie e poi c'è un disorientamento proprio più tipicamente politico che ha diciamo alcune caratteristiche che ho elencato qui il leader che cosa è il leader oggi noi ci riempiamo la bocca di leader continuamente la politica di oggi è una politica personalizzata quindi molto incentrata sulle biografie personali quindi il leader è per forza di cose più ovviamente anche a causa della crisi no delle credenze stabili e delle ideologie che abbiamo visto qui quindi il leader è centrale nella politica democratica però in questo scenario appunto disordinato e disorientato il leader che funziona di più il leader postmoderno per definizione in realtà io nel mio libro lo definisco un follower più che un leader cioè quello che riesce meglio di altri a sintonizzarsi sull'opinione pubblica e a inseguirla è quello che riesce a fiutare in qualche modo meglio di altri dove sta andando l'opinione pubblica e quindi poi a diciamo posizionarsi lì che è diverso dal leader diciamo da manuale il leader da manuale novecentesco aveva la sua ideologia ce la vendeva se ci piaceva bene se no no non poteva di staccarsi più di tanto dal suo credo oggi invece tutti i credo sono abbastanza diciamo sul mercato perché cercano di inseguire appunto gli sciami di inseguire l'opinione pubblica che come vedete qui è sempre più un'emozione pubblica proprio perché cambia molto rapidamente adesso non parliamo della questione italiana come ha detto Adolfo l'affronteremo più in là però insomma la sera in cui Mattarella convoca Draghi tre partiti hanno detto no a Draghi il giorno dopo due hanno già cambiato l'idea soltanto per fare un esempio e quello non è che fa che crea particolari scompensi ormai diciamo nei sondaggi o nel rapporto tra il popolo e i partiti siamo proprio abituati alla contraddizione perché non chiediamo più tanta coerenza ma chiediamo appunto un flusso di emozioni a ciclo continuo ma su questo adesso non posso entrare più di tanto comunque se tutto questo è vero la democrazia è sempre più una sondocrazia perché se i leader che funzionano sono prevalentemente follower dell'opinione pubblica devono costantemente sondare il clima d'opinione scusate il clima d'opinione e adeguarsi appunto al clima d'opinione finché funziona perché poi insomma talvolta poi il leader perde la sua credibilità e a quel punto diciamo la sua parabola si chiude i partiti di massa novecenteschi come li conosceramo noi sono sempre più quindi in qualche modo dei fan club molto legati al brand leaderistico e molto poco strutturati come sappiamo insomma con una scarso democrazia tutte cose che già sappiamo qua non vado oltre tutto questo sistema ha prodotto mediamente non solo da noi in tutte le democrazie occidentali non a caso il termine che vedete qui mediocrazia è un termine di un autore canadese una tendenza per cui la democrazia come la intendeva per esempio giovanni sartori anche come selezione dei migliori lui la chiamava poliarchia selettiva quella lì ha fatto posto invece appunto a una specie di selezione a rovescio selezione mediocre selezione dei peggiori non lo so però è figlia più o meno di questo sistema qui è dell'intervento dei mass media che rientrano chiaramente in tutto questo scenario la rappresentanza è sempre più lo sappiamo si parla di disintermediazione sartori parlava di direttismo questa tendenza della politica recente a rimettere lo scettro al popolo no probabilmente russo dovrà votare se appoggiare il governo draghi o no in realtà questo questo ridare lo scettro al popolo se per certi versi può sembrare più democratico in realtà è un vulnus per le democrazie perché normalmente è un modo per una classe politica che ha paura di fare scelte impopolari proprio perché rischierebbe di non essere abbastanza followership di ridare la parola al popolo per liberarsi di quel peso di quella decisione e quindi in realtà è un problema non è diciamo una risorsa questa del direttismo e poi c'è uno scontro fortissimo tra le politiche pubbliche quindi le politiche reali e ciò che noi percepiamo delle politiche il loro simbolismo quindi uno un forte scontro tra la fast politics e le policy cioè appunto di nuovo tra reale percepito gli effetti annuncio voi sapete che che ne so a fine governo renzi ancora c'erano da approvare i decreti attuativi del governo monti eh ogni qualvolta conte ha annunciato un decreto a in diretta alle due alle tre di mattina durante il lockdown in realtà quello era solo un annuncio che però generava delle conseguenze e ricordate la stazione piena a Milano solo per l'annuncio del decreto della Lombardia zona rossa ci dice che appunto la fast politics in realtà è una politica veloce che gioca sulle emozioni che gioca sul percepito cercando di far sì che sia che si attui la cosiddetta legge di Thomas cioè se gli individui definiscono come reale una certa situazione essa sarà reale nelle sue conseguenze quindi se io dico che questa cosa la sto per fare voi ci credete e vi adeguate conseguentemente appunto cambiate comportamento questo è un altro problema per la democrazia perché in realtà potrebbe addirittura potremmo arrivare al punto che un leader annuncia qualcosa e poi non la fa scientemente se intanto diciamo il risultato si è già si è già prodotto mettiamola così adesso vediamo se perché mi sono già mangiato una ventina di minuti quindi spero che questo quadro sia più o meno chiaro volevo arrivare direttamente alla alla linea di frattura destra sinistra che mi ci gioco questi ultimi dieci minuti allora questa che vedete qui sono diciamo in inglese perché l'ho presa appunto dal libro che sta per uscire adesso però insomma la la barra nera sono i i voti medi nelle prime dieci città per popolazione di trump contro clinton trump contro biden le pen contro melanchon il liberi man di brexit leghe pd in italia e invece la la colonna puntini è il la mail risultato nazionale serve solo a dimostrare una cosa che sappiamo tutti ormai c'è un voto metropolitano che tende a sinistra e c'è un voto periferico che tende a destra non in tutti i paesi ma insomma in parecchi paesi come sappiamo molti hanno parlato della riproposizione della frattura città campagna che era una frattura tipicamente economica ehm che a me convince poco perché perché la frattura città campagna era in realtà che cosa voleva dire che città e campagna votavano in maniera diversa perché le città erano industrializzate le campagne erano agricole oggi noi non siamo minimamente in questo scenario siamo in una società totalmente terziarizzata come vediamo da questa slide il 73 per cento del del pil prodotto nei paesi oxe e nel terziario ehm di 22 nell'industria e solo il 4 nel primario quindi non può essere quel tipo di frattura lì è un altro tipo di frattura ed è una frattura che io definisco in out cioè è come se il mondo che è globalizzato oggi avesse un centro che in realtà è fatto da tanti policentri che sono le metro le metropoli globali e da una periferia che tutto ciò che invece è fuori da quelle metropoli quindi è una frattura diciamo tra chi è interno alla società mainstream diciamo alla società che conta la società consumistica e chi è esterno possiamo chiamarli nodi globali new york milano parigi londra e vuoti locali vuoti locali sono tutte le aree invece periferiche ora la cosa curiosa è che alla mia lettura è che l'interno quindi il mondo in il mondo mainstream che avete anche affrontato per esempio anche con con ocone perché mi sono affacciato quel giorno in qualche modo crea i suoi anticorpi cioè ha aiutato a creare l'esterno a creare aiutare il voto diciamo di destra di oggi della delle aree periferiche come con la società dei consumi con la logica dei media e con l'identity politics in che senso la società dei consumi l'abbiamo detto prima è una società che tende a ehm all'insoddisfazione il consumismo funziona se noi siamo perennemente insoddisfatti per essere perennemente insoddisfatti dobbiamo continuamente appunto avere voglia di cose sensazionali e di cose nuove e questo chiaramente diciamo eh per il nodo globale per i nodi globali è un problema perché questa ansia continua aiuta per esempio ad ad incrementare le paure i risentimenti l'aggressività che spesso hanno portato al vuoto a destra per esempio così come la media logic la media logic che cos'è i media agiscono in un mercato agendo in un mercato devono sfruttare diciamo al massimo la loro utilità e i loro profitti e per farlo devono catturare la nostra attenzione e per catturare la nostra attenzione devono essere sensazionalistici e per essere sensazionalistici eh se ci spaventano è meglio quindi allarme emergenza emergenza allarme questo spesso finisce per ingigantire lì percepito di alcuni fenomeni e spesso l'ingigantisce a svantaggio di questo mondo qui che è il mondo appunto metropolitano tendenzialmente liberal e che tendenzialmente vota appunto a sinistra sull'identity politics ci arrivo tra un attimo quindi abbiamo da un lato più o meno la frattura è così abbiamo visto al nel voto americano ultimo ma in realtà è una cosa che va avanti da da decenni metropoli globali che sono tendenzialmente liberal dove trionfa appunto la la filosofia del politicamente corretto e dove vince mediamente la sinistra e le aree esterne che invece sono diciamo più anti establishment tendenzialmente più di destra etichettate dall'altra parte come diciamo populista ripeto a mio avviso non è tanto una frattura economica cioè dal punto di vista dei dati economici non troviamo grandi differenze è una frattura culturale e psicosociale perché appunto il percepito che plasma il reale seguendo questa roba qui ed etica cioè si sta creando di nuovo una frattura fortissima tra buoni e cattivi ora mentre è chiaro e vado a chiudere perché siamo mentre è chiaro che la destra in questo scenario è presentata per definizione come cattiva i trump i fascisti e brexit quelli che giocano sulle fake news eccetera eccetera è molto interessante invece e quindi quando si parla di democrazie illiberali nella letteratura recente tutti guardano a destra come il liberalismo io mi sto interrogando anche con autori americani ma di sinistra molto diciamo secondo me autonomi intellettualmente che si stanno chiedendo se il problema dell'illiberalismo non ci sia anche a sinistra derivando da da cosa fondamentalmente da eh una serie di 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 fenomeni che sono in corso la polarizzazione politica che è sempre più ampia e vabbè e questo lo sappiamo un incremento di ansia e depressione tra gli adolescenti che è fortissimo dati alla mano non solo negli Stati Uniti derivante in qualche modo anche dal crollo dell'autorità parentale quindi da genitori sempre più iperprotettivi eh l'iperprotezione fa sì che appunto queste nuove generazioni fondamentalmente siano crescano in un mondo privo di rischi e quando arrivano ai college quando arrivano alle università le università che spesso tra l'altro c'è una forbice ormai clamorosa soprattutto negli Stati Uniti ma non solo tra professori dichiaratamente liberale di sinistra e professori che non lo sono il rapporto è dieci a uno nelle scienze sociali oggi queste università assumono politiche burocratiche proprio per evitare le cause e gli avvocati iperprotettive per ridurre incontenziosi e snaturano così la loro mission qui ho scritto FSZ FSZ sta per free speech zone ci sono delle università americane in cui puoi parlare liberamente solo in alcune aree e solo in alcuni orari che se ci pensiamo proprio l'antitesi dell'università no? E ovviamente anche l'antitesi della libera manifestazione del pensiero che poi è un fondamento ovviamente democratico e allora ehm salto direttamente a alla conclusione poi magari ci torniamo con le con le domande mentre è chiaro qual è per un certo mondo il pericolo del liberalismo da destra deriva autoritaria lo scollamento tra fatti opinioni gli alternative facts di Trump quindi le cose vanno evidentemente in un certo modo lui butta giù una contronarrazione e mezzo mondo gli crede l'iper semplificazione delle proposte l'iper personalizzazione insomma in sintesi quella che viene definita la deriva populistica in pochi stanno ragionando in pochi stanno ragionando su quest'altra cioè che può esserci ed è forse già in corso anche un pericolo di illiberalismo da sinistra che è se vogliamo la società dei divieti cioè appunto questa società mainstream tutto tutto quel terziario avanzato che abbiamo visto prima no? Quindi la società dei servizi dei consumi compresi social media le piattaforme tecnologiche Zuckerberg che decide chi bannare e chi no no? Eh è la società che appunto sta oggettivamente lavorando per una sorta di pensiero unico ovviamente loro non sarebbero d'accordo però è chiaro che questa distinzione buoni cattivi li portano che è anche una società che genera una torsione a suo favore di tutto ciò che conoscenza scienza e tecnologia diventano quasi di parte no? Diventano quasi roba loro e non di quegli altri e questo genera peraltro un ulteriore deriva che la deriva tecnocratica che è un altrettanto diciamo è altrettanto un problema per la democrazia perché come lo è questo lo è questa ed entrambe possono essere molto illiberali perché questa può portare quello da destra diciamo a una democrazia appunto che mette in crisi lo stato di diritto e questa può portare a una democrazia che tappa la bocca a mezzo a mezzo popolo e quindi diciamo illiberale anch'essa appunto i diritti fondamentali. Per ora mi fermo qua poi magari con le domande sfrutto altri concetti che avevo che avevo in mente. Intanto grazie. L'ho corso ma il concetto è troppo ampio per non correre. Allora le domande ne sono passate un paio ma sono state la scritta è apparsa molto velocemente per cui non sono riuscito ad appuntarle per cui magari chiedo ho visto prima o due domande avevo visto. Le vedo in chat se sono quelle le questo sostanziale passaggio quella lì. Nicola Boscolo Pecchia? Esatto. Sempre lui eh? Sempre lui. Io chiedo scusa. Ma falla a voce dai falla a voce. Visto che hai aperto il microfono. Ho perso un attimo il filo. Quindi se mi indagio a spunto della rilettura perché. Allora scusa la leggo. Chiedo scusa. Allora questo sostanziale passaggio da stabilità di instabilità tende a riprodurre se stesso porta un reflusso verso un recupero della memoria della nazione e del leader. E questa è la prima. Poi l'altra mi pare che sia scollegata. Quindi diciamo. No era era il senso. È chiaro che non abbiamo la sfera di cristallo ma questa sostanziale instabilità porterà un reflusso di tornare indietro o genererà ancora altre instabilità. E la seconda domanda che poi è uguale se questo in out e non più campagna città in realtà se in qualche maniera il vecchio sistema sistema antisistema per usare termini molto vecchi se il vecchio sistema che ha vinto imponendoci sotto altri mezzi o se in realtà sistema e antisistema il clive l'agio è caduto e c'è tutto di quel fatto. Ecco queste erano le due domande. Grazie. Intanto inizio a rispondere a lui così poi se ne escono altre. Allora prevedere cosa succederà in uno scenario come questo è veramente complicato. Quindi diciamo non però recupero di memoria nazionale leader. Allora i leader sono pienamente in campo però bisogna lavorare molto sul concetto di leadership. Cioè a me come come ho provato a spiegare prima e oggi è molto funzionale il leader che in realtà è follower. Quindi il leader che in realtà si appiattisce in segue l'opinione pubblica. Preferirei dei leader più leader alla Merkel per capirci che è un po' un'anomalia nello scenario diciamo dei capi di governo quantomeno democratici eccetera. E chiaramente però per funzionare il leader leader tu hai bisogno che tutto il sistema sia per certi versi in grado di non essere particolarmente disorientato mettiamola così. La memoria io sulla memoria ci metterei quasi una pietra sopra nel senso che siamo una società veramente siamo la società dell'oblio a tutti gli effetti. Poi ci sono dei paradossi su internet per esempio resta tutto no resta traccia di tutto quindi in realtà tu hai una memoria di singole cose che è enorme però quello che cambia è quella che io nel libro chiamo la l'oblio l'oblio emotivo. Adesso vi faccio questo caso così provo a spiegarvelo meglio che ha anche a che fare col rapporto tra politica simbolica e politica reale. Vi ricordate quando è venuto in visita a Roma il presidente dell'Iran Ruani nel 2016 c'era Renzi premier e Marino sindaco di Roma. Nella visita di cortesia del presidente Ruani c'era una visita ai musei capitolini e per eccesso di ospitalità diciamo si decise di coprire tutti i nudi mi ricordate con dei compensati bianchi una cosa orrenda. Quando è emersa questa cosa quindi l'Italia ha scoperto questa questa oscenità cioè coprire le tue opere d'arte per eccesso di ospitalità. Cosa è successo? Vi ricordate all'inizio c'è stato un rimpallo di responsabilità tra Renzi e Marino alla fine si è capito che la decisione era stata nazionale quindi il governo quindi Renzi doveva assumere una decisione e noi in quel momento non parlavamo d'altro come avviene sempre ogni giorno sui social noi impazziamo per uno o due argomenti e sembrano in quel momento la questione di vita o di morte ok? Nel nostro tempo puntillistico appunto. Renzi che fa? Trova il capo espiatorio la capa del cerimoniale no? Abbiamo trovato il responsabile il capo del cerimoniale sarà licenziato insomma si rimetterà a breve e non si è mai licenziato perché? Ma giustamente aggiungo io perché due giorni dopo noi eravamo presi da ben altre follie di quel tipo lì. Ora io vi ho ricordato l'evento tutti ce lo ricordiamo quello che abbiamo dimenticato è come ci ha fatto sentire quell'evento in quel momento per quello lo chiamo bio emotivo quindi è vero che internet è una sorta di database infinito di informazioni ma non cambiano il nostro modo di sentirci se le andiamo a ripescare qua e là perché spesso sono legati a eventi che abbiamo già cestinato proprio dal punto di vista emotivo oggi se dicono elettore cinque stelle ma Di Maio diceva che Mattarella doveva subire l'impeachment ma che gli frega lui due giorni dopo già l'aveva rimosso quel problema se lo ricorda ma non gli cambia la vita questo è anche un ragionamento interessante per valutare quanto conta appunto la coerenza in politica oggi perché oggettivamente in questo scenario qui noi siamo siamo chiedendo alla politica quasi di essere incoerente cioè di inseguirci costantemente nelle nostre evoluzioni e e poi viene premiata in e out non è il vecchio sistema secondo me è più che altro un un sistema contemporaneo cioè appunto è il terziario avanzato che per terziario avanzato intendo appunto tutto il mondo dei servizi dei consumi e dell'innovazione tecnologica che ha i suoi quartier generali ormai in alcune grandi città in italia indubbiamente milano e non roma e ragazzi se voi andate a milano soprattutto in certe aree di milano potete benissimo sentirvi a londra o a manatta ok quelle città si inseguono anche da un punto di vista estetico addirittura sono degli eventifici consumistici che vanno inseguendosi questo è anche in qualche modo pensiero unico a me dispiace uscire a piazza cardusi e vedere starbucks h&m c'è che cominciare a dire dove sto cioè è milano questa ok perché preferisco bergamo alta dove c'è tutti i negozi di bergamo però questo può essere ancora questione diciamo personale ok però non lo è perché di fatto è questo appunto levigarsi omologandosi no verso un punto un modello che alla fine piaccia no è proprio un peccato che azzeri tutte no le differenze tutte le identità però è chiaro che un modello vincente cioè se londra ha quattro volte i turisti di roma come possì come come spiegabile se non per quello perché londra in roma è out in quello scenario lì a roma ci vieni perché vedi il colosseo vedi le rovine poi no fa imporso un po di shopping però voi avete presente prima del covid cosa era oxford street il sabato sera cioè altro che via del corso è uno sciame umano di di gente che fa shopping che fa che fa impressione e rientra appunto in quel modello lì ma in italia stessa adesso ho citato londra in italia sempre in era pre covid quando ancora ci spostavamo le prime tre attrazioni su cinque visitate in italia erano primo il colosseo ma secondo terzo e quarto erano tre outlet serravalle quello di firenze che mi pare castel romano qui a roma quindi la patria dell'arte tutti come dire il sì l'unesco come di fatta stato nazione qual è l'italia ha sette dei primi dieci siti più visitati in assoluto che sono centri commerciali fondamentalmente quindi con quella roba tocca fare i conti assolutamente ed è difficile perché perché ci stiamo dentro e perché sono cose che comunque ci fanno comodo ci piacciono come consumatore c'è uno dei grossi problemi delle democrazia di oggi è che il consumatore ha vinto sul cittadino e il consumatore ha bisogno di una bolla e di un algoritmo che gli aiuti quello aiuti a fare le scelte diciamo convenienti fanno perdere meno tempo netflix mi dice quali film mi piacciono e magari ci prende amazon mi suggerisce i libri magari ci prende e mi fa perdere meno tempo questo sistema qui sul cittadino è dannoso perché continua a polarizzare a tribalizzare sono le famose camere dell'eco che io ribattezzo nel libro camere dell'ego ci chiudiamo appunto in una in una camera per noi confortevole vediamo sempre le stesse persone se ci confrontiamo sempre con gli stessi punti di vista che già condividiamo e questo genera un mostro dal punto di vista democratico anche perché ci dà l'idea che noi abbiamo i grandi numeri dalla nostra parte caspita pensano tutti come me guarda là e grazie perché l'algoritmo ti sta facendo vedere quello che vuoi vedere da un'altra parte ci sarà qualcun altro che farà lo stesso pensiero pensando l'opposto delle cose nostre e quando questi due pensieri si incrociano sui social non è uno scambio di opinioni è uno scontro tra verità ma io ho i numeri no io ho i numeri e parte diciamo il delirio che conosciamo questo non vuol dire che sia colpa dei social è tutto quello scenario lì che ci porta verso la polarizzazione di oggi forse ce ne sono altre intanto una domanda di lecca sull'influenza della neurocomunicazione poi dopo darò la parola per domanda a roberto aprile mario presutti e davide carbin allora sull'influenza della neurocomunicazione magari ma non la vedo perché su whatsapp non lo so io l'ho vista l'ho vista passare quindi non so allora quello è il tema chiave almeno dal punto vista della ricerca allora mettiamola così chi studia soprattutto cuori dall'italia speciali negli stati uniti i diciamo queste queste questioni oggi sta facendo molto affidamento alla psicologia cognitiva e alla neuropsichiatria la neuropsicologia perché si è capito che appunto in realtà la variabile chiave è qua è nella capoccia della gente l'acof lo diceva già nel 2009 la battaglia del futuro è il cervello delle persone e aggiungeva il cervello inconscio delle persone quindi al di sotto della soglia di consapevolezza perché lì che bisogna andare a capire io nella versione inglese di demopatia quindi non in questa chiudo dicendo ad oggi la amigdala batte la corteccia frontale cioè insomma il sistema limbico che è quello che riguarda le nostre percezioni prime le nostre sensazioni quello legati al corpo ai sensi alle emozioni forti la paura e talvolta è come se fosse scollegato con la corteccia non fa in tempo ad essere elaborato tutto ciò in questo turbinio e quindi vince no questa questa emozione spesso addirittura senza essere neanche razionalizzata per certi versi quindi non c'è dubbio che sicuramente a un punto di vista della ricerca bisogna guardare lì ci sono già dei libri di marketing che addirittura suggeriscono quali strumenti diagnostici utilizzare per fare marketing c'è un libro che sto leggendo in questi giorni che ti dice usa la risonanza magnetica per capire se poi la risonanza magnetica costa 3 milioni di euro un macchinario quindi non lo so chi se lo può permettere per certi versi anche un po inquietante tutto questo però non c'è dubbio che che è una delle chiavi mai come oggi nel senso che appunto in questo triplo disorientamento e l'inconscio diventa ancora più protagonista perché spesso non hai nel tempo nell'abitudine a far diventare conscia con qualcosa nel senso che appunto è veramente un trionfo di emozioni e di pre razionale e poi c'è una domanda di roberto aprile sì buonasera professore roberto aprile io volevo sapere mh se oggi una crisi della democrazia è connessa alla crisi del sistema partito a me colpiva il passaggio che aveva fatto parlando di partiti di massa fan club quindi ad oggi nella terza repubblica effettivamente il sistema partito rispetto a quella che era la struttura dei partiti mh del passato contribuisce purtroppo ad acquire una forte crisi della democrazia e quindi diciamo quali sono quali quali possono essere gli aspetti positivi che possiamo cogliere in rapporto a quelli distorsivi questa diciamo in un certo senso la domanda grazie allora io grazie a te io non ho parlato della crisi dei partiti perché l'avevo proprio scontata nel senso che i primi lavori politologici sulla crisi contemporanea delle democrazia guardavano tutti alla crisi dei partiti dove è stata la prima cosa che hanno guardato ok la democrazia in crisi perché i partiti sono andati in crisi la democrazia del novecento fondamentalmente era una democrazia dei partiti ergo fai proprio un sillogismo la democrazia in crisi io sono andato un po più in profondità nel senso che quella per me era la punta dell'iceberg non c'è dubbio che c'è la crisi dei partiti ma perché non c'è dubbio che il brand non è più ideologico ma è se voi lideristico narrazioni cangianti molto forti dal punto di vista emotivo ma assolutamente in contraddizione ma perché quindi io sono voluto andare a scavare dietro questi perché perché ho detto scusa se tutte le democrazie occidentali o quasi condividono questi tipi di problemi dove trovate più o meno ragionamenti tipo il mio in autori appunto canadesi come ho citato prima ma tedeschi ma francesi ma statunitensi ma inglesi inglesi quindi tutti si stanno interrogando su poi alcuni paesi lo sono meno la germania ancora un po novecentesca per certi versi anche la scandinavia però questo non vuol dire che questi trend non siano in corso anche lì sono solo un po rallentati per certe ragioni probabilmente culturali o anche istituzionali però appunto se c'è una cosa che dobbiamo evitare è pensare di risolvere questi problemi mettendo la retromarcia o facendo inversione a u scordiamoci cioè noi siamo nel corso di una transizione antropologica potentissima no e per cui dire ok torniamo a come eravamo trent'anni fa non ha proprio senso cioè proprio non non ci sono come dire non è proprio possibile quindi se dobbiamo pensare a un modello non dobbiamo pensare al partito di massa novecentesco quello fa parte di un mondo che non c'è più per tantissime ragioni dobbiamo cercare di capire cosa funziona oggi e di sfruttarlo in maniera tale da non uccidere il malato cioè la democrazia questo è il problema il punto chiave della nostra discussione poi chiave di singolo partito ognuno ovviamente c'è dei ragionamenti extra da fare però io oggi faccio un ragionamento macro per ecco non guarderei indietro la retrotopia per dirla con vamo non funziona è un è un vizio classico dell'essere umano non si sta meglio quando si stava peggio il ricordo roseo o ottimismo retrospettivo come si chiama in psicologia tutti noi tendiamo a ricordare il passato idealizzandolo in realtà non stavamo meglio prima per moltissimi punti di vista sotto il punto di vista dell'ordine di né ecco della bussola e dell'orientamento probabilmente sì però dobbiamo fare i conti con la società in cui siamo che è una società in cui devi essere in grado di essere antifragile che è il titolo di un libro famoso di taleb di qualche anno fa che non è resilienza ecco apro questa parentesi perché ormai resiliente è una parola chiave ormai tutti la usano il piano di resilienza beh anche oggi qualcuno ha parlato di resilienza per il governo draghi secondo taleb tu puoi essere fragile quindi molto diciamo vulnerabile puoi essere resiliente che di fatto vuol dire robusto resistente non è una parola diciamo del tutto nuova no se sei resiliente se arrivano shock esterni e sopravvivi sei elastico tutto sommato sta in piedi ok taleb dice no noi dobbiamo pensare di diventare qualcosa di più di antifragili cioè il contrario di fragile lui ha coniato appunto antifragili cioè più shock arrivano più cresciamo più stimoli dall'esterno mi mettono in difficoltà più devo essere in grado di sfruttare questi stimoli e fare learning apprendimento diventare più forte di prima che è un problema dell'illiberalismo da sinistra ho detto prima cioè infatti gli autori che non ho citato prima gli autori che stanno studiando appunto questa versione illiberale da sinistra in america puntano molto sul concetto di antifragilità cioè loro dicono i bambini nascono antifragili per definizione si mettono tutto in bocca testano rischiano ok poi chiaramente il genitore deve guidarli però se il genitore è overprotective quindi iperprotettivo non gli fa testare mai niente questi arrivano al college con questo allenamento cioè in un bozzolo di seta bellissimo che al college trovano professori che tendenzialmente sono anche tutti da una parte politicamente e che hanno il terrore di finire come dire sotto inchiesta perché hanno invitato tizio o di finire come la polizia nel campus perché hanno invitato a parlare e quindi tutto questo sistema sta continuando a essere overprotective anche nel college e questi ragazzi escono da lì con appunto un narcisismo sfrenato perché sono cresciuti in 25 26 anni di vita in cui qualunque cosa hanno detto questo non mi piace mi dà fastidio qualcuno ha detto ok ok rimediamo prima erano i genitori poi erano i professori dell'università quelli di scuola poi dell'università e così via chiaramente questo scenario fa sì che il confronto dialettico tra le parti sparisce perché se tu usi un termine che non mi piace e io chiamo papà e ti guarda che usa papà intendo il rettore per esempio guarda che tizio ha detto questa parola ah e no tizio allora c'è due settimane di multa e questo passare tra l'insicure dall'insicurezza fisica all'insicurezza psicologica sta creando appunto dei dei mostri e sta creando la società dei divieti appunto e questa è la versione appunto liberale da da sinistra altre domande? Mario Presutti sì sì grazie professore diciamo che la diagnosi della malattia è davvero un po' inquietante per certi versi mi domandavo quindi se lei magari ci potesse dare qualche qualche strumento per difendere questa democrazia perché che la democrazia sia come dire in crisi appunto mi sembra evidente perché sembra quasi tutto andare in questa direzione sia il modello economico che il modello tecnologico allora come difenderci come difendere la democrazia? Grazie allora premessa quando io ho finito il libro per me il libro è diviso appunto in sintomi di diagnosi e terapia io mi ero fermato alla diagnosi perché per me lo scienziato deve spiegare non deve prevedere il futuro suggerire chissà che dopodiché l'editore mi dice beh ma dai chiudiamo il ciclo è più carino mi ha convinto a fare un capitolo anche terapeutico però il capitolo terapeutico più che altro come è costruito come ho analizzato tutta una serie di terapie già proposte e ho spiegato perché non funzionano e poi alla fine ho aggiunto una mini mia postilla che non è proprio una terapia terapia al momento non ce la nessuno non posso come dire eh arrogarmi questa pretesa però quello che posso dire è questo uno scordiamoci appunto le retromarci specchietti retrovisori e guardare quello non non ha senso sarebbero antistorici antisociali anche perché la società sta andando da tutt'altra parte e guardate c'è una cosa interessantissima a proposito di consumatore cittadino e di quanto si scollegheranno ancora le democrazie cercano di regolare in qualche modo i social la questione del fake news lo sappiamo bene no probabilmente arriveremo a delle autoriti per evitare che Zuckerberg da solo decida di spegnere qualcuno ok vedremo però insomma è chiaro che c'è un tentativo di riavvicinare fatti opinioni c'è un tentativo di riavvicinare le emozioni alla ragione eccetera per il cittadino in simultanea l'economia sta lavorando all'internet dei sensi c'è un rapporto dell'Erikson che diciamo delinea quello che sarà grossomodo la società tra non molto dieci anni vent'anni che è impressionante sarà omnisensoriale sarà tutto virtualizzato e ognuno di noi sarà veramente in una bolla anche sensoriale cioè si immaginano delle degli strumenti di di realtà virtuale tali per cui se tu sei in un autobus e c'è rumore intorno clicchi un qualcosa e ti isoli acusticamente cioè cose veramente incredibili e chiaramente è ovvio che l'economia sta andando lì invece perché gioca sull'inconscio perché gioca sui sensi perché gioca sulle gratificazioni immediate e questo però continuerà a polarizzare a individualizzare a narcisistizzare la società quindi noi comunque dobbiamo fare i conti con quel mondo lì e io quindi dico terapie complicatissimo di sicuro la prima cosa da fare è lavorare su la presa di coscienza di queste cose cioè se c'è un un pregio del mio libro secondo me è che fa come dire da consapevolezza di alcuni fenomeni già solo avere quella consapevolezza forse un mini terapia una mini terapia è perché dice ok forse domani se vedo il talk show in tv lo vedo con altri occhi forse domani se leggo il post di tizio lo interpreto in un altro modo no apro cerco di aprire un po a tutti i processi che ci sono dietro queste cose non basta però è chiaro che una graduale un graduale aumento di consapevolezza e quindi anche di senso critico di spirito critico aiuta perché è chiaro che noi siamo il vero problema se il demos è questo è ovvio che politica è cioè politica così come capitale capitale capitalismo cercheranno di no cavalcare queste queste tendenze in parte le hanno create l'offerta crea la domanda in parte no le hanno sfruttate nel senso che quindi diciamo la terapia non ce l'è non ce l'ha nessuno io dico uno aumentare con presa di coscienza e consapevolezza e quindi allenarci il più possibile allo spirito critico che è complicato in un'era di polarizzazione vuol dire uscire dalla tribù vuol dire accettare di confrontarti con gli altri che per un narcisista è scomodo perché è una rottura di scatole perché per il narcisista tipico l'altro è uno specchio su cui misuri le tue performance non è uno con cui ti confronti è quello per cui metto la foto sui social mi aspetto il like e il like per me va bene così se parli sei già quasi un fastidio ok e se lo scenario che questo c'è tanto da lavorare in ottica democrazia democrazia è faticosa la politica è faticosa in una società che in qualche modo evita come la peste la fatica e le responsabilità tutto questo stona c'era una domanda di davide garbin sì scritta o era scritta però non non se no possiamo intanto se lui non c'è io volevo mettere un po insieme tre domande quella di anche perché hanno un percorso comune cioè di certino di lombardi e di alfonso e cioè quali sono alla luce di queste riflessioni nuovi modelli sociali qual è la posizione dell'italia nel momento in cui esce lui dice dalla greppia dell'unione europea quindi diciamo può può cominciare a liberarsi probabilmente dai vincoli che l'unione europea ha messo in questi anni e poi l'ultima è quali sono gli strumenti per la nuova centralità della destra quindi diciamo dai modelli sociali all'italia un po più libera dalle dai limiti e dai vincoli europei e gli strumenti per una perché la destra diventi centrale a parte dall'unione europea dunque lì ragazzi bisogna essere realisti e pragmatici cioè almeno questo è il mio punto di vista ci può piacere o non piacere ma dobbiamo fare i conti in quello che siamo cioè se noi fossi un paese potente indipendente autonomo sotto n profili fai come ti pare con l'unione europea per me noi non siamo nelle condizioni di porci quel problema ad oggi purtroppo e ce lo dimostra anche la vicenda draghi no cioè solo convocare draghi cambia completamente i scenari internazionali in termini di aspettative di rating di spread dei mercati che volano eccetera eccetera questo ti dà l'idea di cos'è l'italia nel percepito internazionale di cose draghi nel percepito internazionale poi quel percepito internazionale ci può fare stifo ci può non piacere un sistema è ovvio che qualcosa non torna e che il problema della sovranità c'è è come se proprio draghi col whatever it takes ci ha ridato vita cioè quello è stato l'atto politico non tecnico più potente degli ultimi trent'anni in europa perché senza quell'atto noi oggi stiamo a giocare con i soldatini di plastica quindi diciamo e però è sbagliato che lo faccia una banca centrale e non la politica quindi è chiaro che lì c'è un problema sistemico grosso che c'è un problema che però appunto non risolviamo non risolve un singolo stato ormai tantomeno l'italia perché non è anche la germania cioè lì ci vuole proprio uno stato tipo stati uniti che può davvero cambiare noi i destini di in europa non lo può fare insomma si è creato questo sistema qui e questo sistema al momento c'è e ci devi stare dentro e devi cercare di farlo rendere il più possibile e poi su questo possiamo decidere se draghi un'opportunità o se draghi un problema per me al momento è un opportunità già solo per quello che sta succedendo sui mercati ecco mettiamola così mi sta facendo ridurre la spesa pubblica ti sta facendo ridurre aumentare eh diciamo gli indici di borsa già questo male non fa poi post covid post recovery plan se l'avremo sfruttato bene se l'italia avrà ripresa se ne riparlerà probabilmente ci si risiede al tavolo del consiglio dell'unione europea e si rilavora ai trattati e si rilavora alle quote di sovranità ma non credo all'ital exit cioè io sinceramente mi fa più paura che altro perché appunto non hai la potenza per non sei neanche il giappone che ha un debito pubblico mostruoso più alto di noi però il giappone sta solo per i fatti suoi una potenza tecnologica ha tante cose che comunque lo fanno funzionare e questo diciamo ci lo rende diverso centralità della destra allora e dunque tutto quello che abbiamo disegnato fino ad ora compresi appunto il destra sinistra più o meno lungo quella linea di frattura la destra la rendono protagonista tanto quanto la sinistra diciamo che non c'è dubbio che in questi anni c'è stato un vento che ha portato e come consenso e voti a quel tipo di destra lì dopodiché certo in italia adesso proprio in questo momento si sta configurando uno scenario non dico diverso ma che potrebbe avere conseguenze diverse no non dico che salvini sia diventato europeista dall'oggi al domani ma è chiaro che si è riposizionato per me il suo riposizionamento ha anche evitato la marginalizzazione della destra però quindi è stata una mossa tattica che reputo diciamo astuta perché altrimenti sarebbe nato probabilmente il famoso governo con maggioranza ursola a quel punto davvero avresti avresti avuto una narrazione del tipo i buoni al governo i cattivi fuori e a quel punto se davvero fai una riforma proporzionale con i buoni al governo i cattivi fuori rischi di non toccare palla veramente a vita quindi diciamo secondo me c'è da ragionare molto su cosa sarà la destra di domani però a questo punto aspetterei quantomeno l'esperienza Draghi e vedere cosa succede alla fine di questo percorso perché almeno in italia questa cosa qui sta scommosso quando parecchio i piani da tutte le parti cioè è veramente un mini terremoto al momento interessante perché appunto Salvini ha fatto quella mossa la mossa di Salvini ha portato PD e Cinque Stelle ad agitarsi a dire mai con Salvini insomma si sta generando uno scenario comunque interessante che potrebbe avere delle ricadute appunto anche proprio sulle tematiche chiave del domani e sui posizionamenti politici del domani quindi difficile dire cosa sarà la destra diciamo post pandemica e in Italia diciamo post Draghi in questo momento aspetterei cioè da riflettere però è uno scenario interessante indubbiamente ah poi i modelli di società è complicatissimo anche quello perché perché appunto purtroppo la società occidentale è una società quasi ormai per modo di dire se tutto quello che abbiamo descritto è vero no cioè se una società atomizzata e tendenzialmente narcisisti ovviamente sono tendenze non tutti sono così però sono tendenze forti tra l'altro sono tendenze prolungate da decenni Christopher Lasch scrive la cultura del narcisismo 42 anni fa nel 1979 e se la leggete oggi quel libro è molto più attuale di allora e questo è un classico i grandi intellettuali anticipano probabilmente chi ha letto quel libro in quegli anni avrà detto ma questo che mondo sta vedendo se lo leggete oggi dice caspita 1979 come è possibile è incredibile l'attualità davvero di quelli in cui si parla appunto di fuga della politica di psicologi psicologizzazione della democrazia eccetera eccetera e tutto questo è in corso quindi è complicatissimo davvero immaginare dei modelli sociali eh di qualche tipo o o proprio del come dire dei cambiamenti sociali che non siano spontanei appunto da 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 progettare di qualche natura quindi quella è una domanda che su cui diciamo trovo particolari difficoltà nel rispondere perché perché è complicato in ogni caso chiaramente aspetta la politica quindi speriamo che che qualcosa di decente venga fuori ecco perché la politica altrettanto disorientata io non vedo modelli sociali proposti da nessuno grossomodo in giro per per l'occidente al momento ci dovrebbe essere la domanda la società post moderna definizione sociologica può plasmarsi col superamento dello stato sovrano a favore di aree confederate ovvero un governo globale seppur selezionato da un parlamento globale questo è il mondo che aveva immaginato tra gli altri pierlevi pierlevi nel 2002 scrive cyber democracy che in italiano c'è anche il libro e credo che siamo andati in realtà al contrario rispetto a quella previsione cioè dietro quella previsione c'era un bias tecnologico cioè c'è un pezzo di mondo da sempre cioè mettiamola così quando arriva una nuova tecnologia c'è sempre mezzo mondo che la pensa in maniera negativa mezzo mondo che la pensa in maniera positiva e anche lì si estremizzano di solito i punti di vista cioè c'è chi pensa che la nuova tecnologia sia il demonio e quindi l'origine di tutti i mali e c'è chi pensa che la nuova tecnologia sia il paradiso e quindi la panacea di tutti i mali quando nasce internet è stato più o meno la stessa cosa all'inizio c'è stato un grandissimo entusiasmo e molti autori diciano beh internet è la piattaforma più democratica per definizione porterà al villaggio globale davvero il villaggio globale proprio nelle parole di McLuhan dove avere armonia pace consenso eccetera e quindi arriveremo a eleggere un presidente federale mondiale con un parlamento mondiale eccetera eccetera quello che abbiamo visto non è propriamente così perché subentra la variabile umana e l'essere umano è comunque gruppista per definizione egoista per definizione c'altro noi riusciamo ad essere entrambe le cose nello stesso tempo cioè noi siamo un essere egoista come più o meno tutti gli animali ma anche gruppista perché ha bisogno degli altri perché ha bisogno di riconoscimento altrui no se io sono narcisista sono iper egocentrato ma guai se non avessi gli specchi a dirmi quanto sei bravo quanto sei fico sarei come dire è finito quindi diciamo noi abbiamo bisogno di tutte e due le dimensioni e purtroppo la dimensione gruppista in politica in nel mondo dell'etica della morale in Italia anche nel mondo del calcio tende a spingere clamorosamente verso la polarizzazione verso il tifo cieco verso gli ultras quindi al tuo gruppo perdoni tutto e gli altri no se uno del tuo gruppo sbaglia poverino non è colpa sua se sbaglia con gli altri gruppi perché loro sono sballati a monte eccetera eccetera il gruppismo è un problema serio e quindi chiaramente difficile immaginare una società nell'era di oggi che è iper polarizzata guardate ragazzi poi date un'occhiata alle ricerche del pure research center negli stati uniti c'è un sondaggio c'è una relazione loro fanno da anni la domanda è secca secondo quanto ti cambia nella vita che vinca un presidente piuttosto che un altro ok vent'anni fa erano più o meno pari i risultati cioè metà diceva sì mi cambia metà diceva no a me cambia niente tanto insomma la politica per me cambia relativamente oggi il rapporto è 80 20 cioè 80 pensa che il presidente diciamo fondamentale e il 20 no che vuol dire che ogni sfida politica è vissuta come la sfida alla morte perché questa polarizzazione è fortissima e purtroppo non è tanto ideologica visto che sia nel mondo post ideologico ormai è una polarizzazione affettiva come dicono i psicologi cioè tu mi fai male mi dai fastidio io che sono abituato al bozzolo al comfort il solo fatto che tu non la pensi come me mi crea proprio fastidio emotivo nel novecento magari ci si menava per strada in base appunto a conflitti ideologici ma come dire era più naturale in un'ottica democratica magari ovviamente con delle degenerazioni da evitare e oggi invece no proprio il fastidio minimo diventa aggression mini aggression perché tu non la pensi come via ti banno no devi sparire e questo non difficilmente può portare a ridurre la polarizzazione che è la minima precondizione per arrivare a confederazione insomma cose che al momento mi sembrano molto difficili diciamo da immaginare nel breve periodo poi qualcuno ovviamente reputa che quello sia invece il modo per affrontare queste divisioni però poi devi convincere i popoli e i popoli al momento sono iper divisi e divisivi quindi insomma è complicato non andrei a imporre a popoli democratici cose che non voglio tantomeno in questa fase ecco mettiamola così poi c'era una precisazione di scioltino sul diciamo sull'importanza e sulle conseguenze della robotica sui modelli sociali è quella è un altro tema molto interessante su cui ci si sta e addirittura per la copertina del libro in inglese stavo per scegliere un'immagine che aveva l'uomo che si specchia vede il robot o viceversa poi ne ho scelta un'altra poi quando la avrò la il pdf della copertina ve la giro e mi dite come però è chiaro che è un tema molto importante ma non solo e non tanto perché fondamentalmente quello che sta accadendo non ho il terrore all'asimov che a un certo punto i robot impazziscono e dominano il mondo no però è evidente che noi stiamo andando verso un'intelligenza artificiale che è sempre più intelligente quindi è sempre più umana e un'intelligenza umana che è sempre più ad automa cioè noi abbiamo ormai tendenzialmente appaltato la memoria a wikipedia che ne so a google cioè l'orientamento al navigatore di google non sto esagerando cioè sono cose dimostrate esperimenti noi ma questo lo si sa da sempre pensate che quando platone nel fedro scrive che socrate raccontava che nell'antico egitto quando un dio inventore disse al faraone di allora guarda che ha inventato la scrittura fonetica non quindi geroglifici la scrittura alfabetica diciamo nostra e che dice una ficata perché la scrittura fonetica ti permetterà insomma di accumulare conoscenza memoria e invece il faraone dice no guarda che tu mi stai dicendo esatto contrario perché grazie a quella tecnologia noi la memoria la perderemo perché grazie a quella tecnologia la conoscenza diventerà invece alla portata di tutti e diventando alla portata di tutti diventerà opinione diventerà doxa non episteme diventerà una cacciara fondamentalmente ok quindi molte delle questioni che noi oggi affrontiamo con i social già in qualche modo socrate l'aveva prevista con la scrittura quindi non c'è dubbio che ed è appunto dimostrato da tanti esperimenti noi stiamo diventando altro con la digital transformation in termini di memoria di capacità riflessive di di tante cioè ci sono libri intitolati demenza digitale e sono libri neuropsichiatri che hanno fatto esperimenti non di opinioni e d'altro canto c'hai ormai delle dei chatbot che mentre parli non sai se stai parlando con un robot con un essere umano fra un po' faticheremo davvero tanto a capire se stiamo parlando con un robot con un essere umano e questa per me è la cosa più preoccupante perché di nuovo quel rapporto tra fake e reale che già fluido per definizione ma con queste tendenze diventerà veramente complicato cioè immagino che nell'internet dei sensi appunto in quella società del 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 dopodomani probabilmente qualunque cosa faccia un essere umano in carne e ossa dovrà avere il flag tipo dai dei profili autorizzati no scusate verificati di twitter o di facebook cioè entreremo in uno scenario in cui davvero vero e falso cominciano a reale e falso quanto meno cominciano a essere molto molto confusi ed è quella la cosa che mi preoccupa di più al di là della questione ovviamente i posti di lavoro tutte le cose che sappiamo intorno all'intelligenza artificiale ma quello mi preoccupa meno perché secondo me da qui a dieci anni si stima che ci saranno il 50 per cento di nuovi lavori che neanche oggi possiamo immaginare quindi quello è una questione che secondo me è un po' ingigantita la te quando la tecnologia avanza cambia il mondo cambiano il mondo cambiano anche i lavori quindi si creano nuove opportunità io ho più paura proprio per le conseguenze di nuovo neuropsicologiche dell'individuo occidentale in questo scenario qui quello mi spaventa altro c'era poi eh Lombardi una precisazione sul sul tema dei rapporti tra Italia e Unione Europea se tu vedi in chat lo spiegava meglio il senso della domanda che era stata un po' sintetizzata allora non mi riferi a vincoli economici all'attualità politica intendevo chiedere dove il relatore vede il sentire dell'Italia se quando dovrà trovare una propria identità ah vabbè sì questo è un problema storico italiano lo sappiamo sì l'Italia è un problema di identità nazionale atavico anche paradossale perché ci sono paesi più recenti che ce l'hanno più forte del nostro ci sono paesi più divisi che ce l'hanno più forte del nostro non voglio entrare lì veramente c'è una letteratura sterminata eh sull'Europa sarei più pragmatico nel senso torno appunto al discorso di prima cioè è vero che un paese così diviso e plurale come il nostro e poi fatica ad arrivare lì e a farsi percepire come un monolito allora io quando ero al Parlamento Europeo ragazzi mi ricordo le riunioni dei gruppi dei partiti a cui partecipavo come esterno come manager e le logiche degli altri partiti erano sempre puramente nazionali non sgarrano di una linea che fossero di destra di sinistra se il governo diceva una cosa erano soldati quelli lì noi all'interno dello stesso gruppo tipo nel Ppe per esempio c'avevamo quattro partiti diversi con quattro posizioni diverse mediamente in Parlamento Europeo e lì capisci che sì indubbiamente è anche un problema storico culturale di paese appunto che non riesce a svilupparla questa identità è proprio l'idem sentire che ti che ti fa sentire nazione eh però è però è anche un fatto proprio di 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 anche di metodo di lavoro di sottovalutazione noi abbiamo considerato l'Europa come una cosa eh bellissima ma non da sfruttare per molti anni cioè erano tutti europeisti ma poi non non usavamo i fondi non decidiamo quasi niente all'europeo perché appunto era gestito male la catena da Roma a Bruxelles avevamo pochissimi dirigenti in commissione eccetera eccetera e poi di colpa è diventato il nemico né da più europeisti a meno europeisti e quando eravamo europeisti lavoravamo così quasi per moda tendenza senza poi sfruttarla quella 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 roba lì e e adesso uguale nel senso che adesso la vera sfida è fare come ha fatto la Spagna e fare come ha fatto l'Irlanda e cioè ci sei dentro ma gli stesso stesso Regno Unito che non era nell'euro ma insomma quello che ha potuto ottenere l'ho ottenuto finché ci sta finché ci sei dentro devi contare e anche qui insomma io immagino che i prossimi consigli dell'Unione Europea quando si va a sedere un certo signor Mario Draghi non lo so gli altri commensali come si sente cioè non credo che sia la stessa sensazione di sedersi con Cotte o anche col Berlusconi 2011 famoso 10 cioè anche lì è una secondo me dato lo scenario dato il contesto dato il peso del personaggio sarebbe bene diciamo non perderla questa occasione parlo come paese al di là ecco delle scelte dei singoli partiti chiaramente eh però il problema dell'identità è un problema ovviamente atavico storico non facilmente diciamo superabile eh mi limiterei dal punto di vista dell'Unione Europea a lavorare meglio là dentro insomma a far sì che però devo dire nel corso dei decenni un po' un po' di cose si sono fatte cioè se oggi andate a vedere le quote di dirigenti per paese l'Italia ormai in linea con Germania Francia Spagna eccetera per molti anni non era così ehm ecco gli anni poi li paghi perché sono stati anni comunque decisivi sono stati anni in cui ci sono stati sono stati trattati importanti cessioni di sovranità importanti in cui tu non hai deciso quasi niente quindi è bene cominciare a capire quanto pesa quel mondo lì e provare a lavorarci come si deve un'altra domanda di Cosentino come può diventare la destra riferimento dell'intelligenza che oggi invece è appannaggio della sinistra? Eh quella è veramente quella è veramente una super sfida allora è interessante perché negli Stati Uniti quella stessa ricerca che dice oggi i professori delle scienze sociali soprattutto nei college più importanti degli Stati Uniti sono dieci a uno per per la sinistra chiaramente negli anni cinquanta e sessanta non era così è un problema generazionale cioè i professori eh di oggi sono grossomodo professori che sono cresciuti nel sessantotto i professori degli anni cinquanta e sessanta erano professori che hanno fatto la guerra mondiale che avevano un tendenzialmente insomma era pari più o meno il rapporto tra repubblicani e democratici poi di colpo col cambio generazionale visto appunto il sessantotto e i suoi derivati c'è stato un cambio una torsione liberal radical vabbè eh ci siamo capiti e quella torsione oggi ce l'ha in campo e quegli stessi professori oggi si trovano peraltro appunto una generazione eh overprotetta la sicurezza abituata come dire a a percepire la la sicurezza emotiva come se fosse una sicurezza fisica no? Cioè in America davvero se tu sbagli un aggettivo dico mi stai ferendo mi stai facendo malo e scrivono al lettore anche se cioè ci sono poi ve lo suggerisco il libro perché ci sono una serie di casi veramente fantastici cioè che solo a leggerli è veramente interessante però insomma ci sono studenti che dicono io ormai nel campus non parlo ma non studenti di destra studenti anche magari di sinistra liberal dico io non parlo perché ho il terrore cioè entri in una spirale e silenzio letteralmente perché hai paura che appunto magari inconsapevolmente sbagli un termine e vieni letteralmente cacciato all'università ha perseguitato così quindi insomma ovviamente quella scelta in America non è è diverso da noi per fortuna non siamo a quei livelli lì però le tendenze sono quelle grosso modo adesso non voglio dire però eh entrare nelle università più in d'Italia come della Gran Bretagna oggi è diverso anche solo esteticamente dall'entrare nelle stesse università da vent'anni fa e quell'estetica va in quella direzione c'hai le aree fumatori isolate c'hai il bike sharing ecologico c'hai le macchinette elettriche c'è tutto figlio di un mondo che va bene sono citato cose cattive ho citato cose giuste però perché rientrano secondo me appunto in un pensiero mainstream che è anche un pensiero che poi tende verso quel pericolo lì e poi succede che appunto se invi se pensi di invitare un personaggio discusso scomodo magari collocato a destra succede che che non lo puoi invitare che non lo puoi far parlare perché tanto non lo fanno parlare ma attenzione è successo in America è successo anche con professori di sinistra dichiaratamente è successo con eh professori di colore che andavano lì a parlare di eh appunto diritti degli afroamericani che magari hanno sbagliato un aggettivo ed è successo direi Dio anche a loro perché quell'aggettivo è stato ritenuto una ferita emotiva mi hai creato dolore al singolo studente il singolo studente costringe il rettore a fare retromarcia su tutto quindi diciamo come la destra ragazzi ci vorrebbe un piano un piano Gramsci da destra che che non c'è non c'è ma è stato la destra è stata secondo me anche mh almeno appunto nella destra repubblicana è una destra più popolare che è l'Italia e credo che debba continuare a farlo possibilmente però eh insomma confrontandosi e cercando di creare un ceto intellettuale una classe non tanto una classe dirigente proprio un ceto intellettuale non tanto per confrontarlo con quegli altri ma quanto per confrontarci sì come partiti ehm perché insomma serve non va bene inseguire l'opinione pubblica o inseguire i climi d'opinione però insomma qualcuno che ti sappia fotografare un po' la big picture è bene che i partiti ce l'abbiano ehm dopodiché eh punto la la frattura destra sinistra nella nell'accademia nel mondo intellettuale ripeto c'è tipicamente novecentesca e probabilmente dal 68 in poi si è solo accentuata questo vale da noi come vale in tutte le democrazie ed è un dato di fatto se posso posso aggiungere una una semplice considerazione a corollario di questa ehm secondo lei professore proprio in questa ottica di cui stiamo parlando con quest'ultima mia domanda non si dovrebbe tentare di picconare questo terribile totem della superiorità morale della sinistra non dovremmo non bisognerebbe lavorare proprio su questo picconando mettendola alla berlina io ci lavorerei da sinistra questo è il bello cioè perché ho citato quell'autore americano che non è il solo eh poi magari vi giro anche due articoli se non volete leggere i libri che sono un po' più lunghi ovviamente cioè la la forza alle stesse cose che dicono questi autori americani le dicono per esempio autori inglesi che però sono autori tradizionalmente collocati a destra e quindi chiaramente vengono già delegittimati perché è il nemico che parla vabbè grazie lo sappiamo e tu la pensi così ciao invece è chiaro che la delegittimazione da dentro è più forte ed è interessante che guardate anche durante il Black Lives Matter a un certo punto è uscito un manifesto firmato da un sacco di nomi importanti la maggior parte dei quali erano collocati a sinistra tra cui anche professori universitari molto importanti negli Stati Uniti ma tra cui anche la la Rowling l'autrice di Harry Potter che dicevano va bene tutto ma occhio che stiamo diventando i liberali noi ma anche col Me Too a un certo punto uscirono dopo un bel po' di vite distrutte uscirono delle delle lettere che dicevano aspetta ferma tutto perché qua tra un po' finisce che anche lì trovate negli stessi libri che vi sto citando ragazzi che dicono nel campus letteralmente tu non puoi minimamente pensare di corteggiare una ragazza perché la sola idea di sfiorarla per caso se lei non ti ha dato il consenso prima rischi che vi è risposto al campus quindi capite che anche dal punto di vista sociale che mostri stanno creando questa roba qui no cioè anche la vita universitaria così diventa una gabbia in cui hai paura a parlare hai paura a socializzare hai paura a cosa mostruosa il free speech zone nell'università è un free speech zone se no non è università eppure sei arrivato quindi sono d'accordo che visto che ci si sta arrivando da sinistra qualcosa succederà perché questo quando questi autori hanno pubblicato questo libro prima hanno anticipato con un articolo su di atlanti che si aspettavano tanti insulti da sinistra perché hanno attaccato un nervo vivo invece hanno avuto tanto consenso quindi c'è in realtà quella consapevolezza da quelle parti eh che si è andati oggettivamente oltre che si sta creando il contrario di quelle che erano le buone inizie di altronde di buone intenzioni sulla stricata dell'inferno lo sappiamo quindi appunto rispetto al martin luther king che ti diceva appunto siamo tutti uguali e il sogno americano è che tutti veniamo trattati allo stesso modo qui ormai siamo arrivati almeno in america a io come singolo mi sento ferito dalle parole di x e quindi il mondo mi deve tutelare da x quando potrei benissimo reagire a parole le opinioni si battono le opinioni no invece questo chiamare papà perché overprotective appunto vabbè quindi diciamo che è giusto secondo me non dico proprio picconarla ma far emergere il paradosso anche pericoloso in termini democratici e di liberali di liberalismo di questa deriva qui e secondo me in america sta già emergendo anche perché lì stanno molto avanti per noi per fortuna non abbiamo il problema delle free speech zone nelle università e e credo che imploderà da dentro lì perché insomma visto che c'è questa spirale del silenzio voi immaginate quanto è costoso per un accademico di sinistra fare un libro così è una bella sfida perché stai picconando da dentro quel mondo lì e quindi piano piano esce uno esce due quando vedono che i primi due sono andati lisci comincia un bel flusso anche perché oggettivamente anche individualmente è molto faticoso fare il professore insitario in quei termini lì ma voi immaginate oggi lasciamo stare con la dad che tutto registrato vabbè ma insomma in aula oggi comunque tu c'è tutti col telefonino in teoria le tue lezioni sono registrate sempre potenzialmente qui non hai la libertà minima di sbagliare niente quindi non ti avventuri proprio nei terreni dubbi però proprio i terreni dubbi sono il fondamento dell'università assolutamente e quindi l'università ringrazio ringrazio il professor di gregorio siamo abbiamo un po sforato con i tempi mi dispiace per qualche domanda che non siamo riusciti a completare ma insomma gran parte siamo riusciti a farlo quindi ti ringraziamo veramente perché è stata una chiacchierata molto interessante ringrazio anche tutti quelli che sono intervenuti che hanno dato un contributo e degli spunti di riflessione molto molto interessanti non so se adolfo vuole vuole chiudere vuole fare un passaggio di chiusura sono qui mi ho seguito credo che sia una lezione molto interessante aperta che anche come dire ci ha fatto riflettere su alcune tematiche che sono non solo presenti oggi ma soprattutto per saranno presenti domani luigi di gregorio con cui mi lega un'antica conoscenza direi anche un'antica militanza è oggi uno dei più brillanti nuovi politologi che in qualche misura si riferiscono all'area della cultura della destra politica vastamente intesa come può essere oggi ridefinita in questo contesto noi siamo già molto avanti nella nostra corso di formazione ci rivedremo giovedì con un tema in questo caso che è stato un tema molto divisivo che quello della identità e della immigrazione e di ciò parleranno suad sbai che come voi sapete sarà anche parlamentare di alleanza nazionale ma è un esponente della comunità originale dal marocco in italia e che ha fatto molto per denunciare la radicalizzazione islamica e giuseppe cecere che un docente universitario che si ascoma proprio dei temi islamici questo è un altro appuntamento della nostra scuola grazie luigi del contributo che ha dato oggi penso che abbiamo ancora molto da fare ma come tu dicevi è un periodo particolarmente tra virgolette rivoluzionario interessante sia quello del governo che sta per nascere un governo votato dal 95 per cento del parlamento sia quello che il governo dovrà affrontare con recovery fund che va assolutamente riscritto perché quello che abbiamo presentato in europa è stato di fatto già ampiamente sonoramente bocciato c'è molto da fare anche per noi per quelli che rappresentano la destra culturale e politica italiana buonasera a tutti buona cena per chi deve ancora cenare e a giovedì prossimo alle ore 19 grazie a tutti buona sera a tutti buona sera a tutti buona sera a tutti buona serata ciao 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 buonasera a tutti arrivederci bello questo coro ciao ciao